E' salito a 12 il numero di cacciatori indagati per bracconaggio nella zona di Triore, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto i domiciliari del sindaco del Paese delle Streghe, Massimo Di Fazio, 46 anni, accusato oltre che di bracconaggio anche del porto abusivo di armi da fuoco. Di Fazio dovrà comparire venerdì mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale d'Imperia, Anna Bonsignorio, per l'interrogatorio di garanzia, al termine del quale il magistrato dovrà decidere se mantenere o annullare la misura cautelare nei confronti dell'indagato, difeso dagli avvocati Simona Bertoldo e Alessandro Moroni. Secondo l'accusa, nonostante la revoca del porto d'armi e del permesso di caccia, Massimo Di Fazio, insieme ad altri cacciatori, avrebbe organizzato e preso parte a battute di caccia al cinghiale di Frodo. Gli investigatori pare abbiano intercettato numerose telefonate in cui gli indagati si accordavano fra loro per organizzare le battute e si scambiavano anche notizie circa le catture degli animali. Le indagini sono state goldotte da carabinieri forestali e polizia postale d'Imperia e sembra non siano ancora del tutto ultimate.